Siamo simili eh, quindi sarai secondo più brutto anche tu Ma lì non c'è? Eh non c'è, non l'hai spostato! È vero! Ah giusto 3 di 10, sei brutto Mi hai spostato per ultimo Di brutto, per me stavo anche dimenticando Ma l'ho contento Sai cos'altro? Sei anche stato valutato secondo più brutto insieme ad Alex No, 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 io me ne vado piuttosto No dai, mettiti qua, stai prendendo il posto di Alex adesso, mettiti qua